niente fuochi d'artificio a romeo menti per l'arrivo della capolista crotone e vicenza non si ripete dopo la goduria erpina pareggia 0 a 0 con un crotone accompagnato da uno sparuto gruppo di tifosi al seguito buona come sempre la curva sud berica meno tifosi purtroppo in tribuna e nei distinti dove la società non ha risposto alle elementali dei tifosi dopo aver portato il prezzo a 30 euro il giorno della gara per un settore non coperto quindi esposto alle interperie per intenderci tante società di serie a per lo stesso settore fa pagare meno e danno la copertura venendo alla partita il problema maggiore di un primo tempo pressoché nefando è stato il centrocampo dove modice gagliardini titubanti lenti imprecisi oppure semplicemente giovani lasciavano solo cinelli a fare filtro mettendo in diverse occasioni la difesa in difficoltà facendo sparare palloni in un'altezza che si vedevano da piazza dei signori nonostante la grazia del direttore di gara su un fallo da rosso di delia graziato tutto sommato qualcosa si è fatto davanti dove il buon rajcevic faceva sportellate con una difesa cotonese assai robusta l'unica emozione comunque in negativo è stato il calcio di rigore fallito da giacomelli il quinto rigore su sette partite dato a vicenza quest'anno una rarità uno segnato due falliti da giacomelli e due realizzati da gatto giacomelli risulta inadeguato forse anche emotivamente quando si tratta di esserci dagli 11 metri pietra tombale delia galano rajcevic o gatto lo rimpiazzeranno in modo da non togliere ulteriori occasioni e punti alla compagine berica venendo a secondo tempo mister marino capita la cazzata fatta tecnico tattica sul centrocampo sostituisce modice con un urso e spostando indietro galano al posto di gagliardini e inserendo gatto le cose cominciano a girare però l'anea rossi doppia faccia finalmente c'è ordine arrivano diverso carioni che infiamano i menti il crotone legge con qualche fortuna stessa fortuna che però aiuta anche il vicenza su un terribile colpo di testa del crotone stampato sulla traversa diciamo che al menti non ci si annoia mai fino al triplice fischio del tutto sommato sufficiente direttore di gara fiducioso e augurando una buona trasferta per vercelli e tutti i diffusi mando un grande saluto a paul stinco ritornato al menti dopo tempo passato dall'estero e bentornato insomma e forza vicenza a fuochi d'artificio che accetono a cura e sempre mi ha vissuto indietro 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 Grazie a tutti.